Ugo Foscolo è uno di quei poechi che meglio rappresentano le istanze proprie di due diverse epoche che in qualche maniera non riescono ad integrarsi perfettamente ma vivono una fase di passaggio intermedia che avrà delle caratteristiche proprie. Sto parlando del 1700 epoca dell'illuminismo, del 1800 epoca del romanticismo e in mezzo a quelle correnti neoclassiche che sviluppano alcuni temi propri dell'illuminismo e ne anticipano contemporaneamente altri propri del romanticismo stesso. Foscolo sia per motivi anagrafici, nasce esattamente a cavallo fra queste due epoche, sia per motivi di indole e di sensibilità artistica, è attratto da una parte dalle istanze proprie del romanticismo, dall'altra parte ai piedi ben radicati in un neoclassicismo proprio di quest'epoca che lo fa anche molto vicino ai ideali che ritroviamo per esempio alla base delle più importanti rivoluzioni che storicamente si sono avute proprio alla fine del 1700, cioè in particolar modo quella francese alla quale lo stesso Foscolo si ispira per trarre le ideologie che poi saranno alla base del suo stesso impegno politico. La sua formazione risente molto dei genitori, da una parte il padre un medico veneziano, dall'altra parte la madre una donna di origini greche e lui stesso nasce in un'isola, l'odierna Zante, che prende il nome di Zacinto, un'isola greca che durante il periodo in cui Foscolo nasce è occupata e sotto il dominio di Venezia, sotto il dominio veneziano. Alla sua patria dedicherà il bellissimo sonetto a Zacinto nel quale canterà le bellezze di questa terra greca alla quale purtroppo non potranno essere restituite le sue ultime spoglie dopo la sua morte per via della sua condizione di esure che come Ulisse girovegherà di terra in terra per non approdare mai nella fase finale, cioè dopo la sua morte, la figura di Foscolo rappresenta perfettamente, incarna perfettamente gli ideali dell'eroe romantico portato alla conquista della libertà, alla lotta per la libertà e contemporaneamente all'eroe risorgimentale che in nome di quegli stessi valori si impegna in prima persona anche nelle guerre per poter dare un volto diverso alla sua seconda patria, Venezia, per la quale si batterà anche con perdita personale della propria libertà. Quindi i temi dell'amore da una parte, amore nei confronti della propria patria, ma anche i temi dell'amore romantico che lo vedono spesso a vivere con inquietudine e in alcuni casi anche con esagerazione alcuni sentimenti che è gli stesso prova nei confronti delle donne. La sua vita si svolge appunto a Venezia dove in seguito alla morte improvvisa del padre è costretta appunto a trasferirsi nuovamente dopo aver intrapreso gli studi a Spalato. è costretta a ritornare e qui però si dà sin da subito alla vita mondana attraverso cioè la frequentazione di alcuni salotti. Napoleone era già entrato nella storia anche italiana in maniera significativa e in qualche modo aveva incarnato quegli ideali dai quali lo stesso Foscolo si era lasciato contagiare avendo vissuto direttamente il periodo della Francia rivoluzionaria. lo stesso Foscolo sentirà appunto l'urgenza espressa dagli ideali della libertà, della fraternità, dell'uguaglianza che avevano incarnato i rivoluzionari francesi e gli sente come propri tanto da vivere egli stesso la necessità di trovare in qualcuno che in qualche modo li potesse incarnare colui che avrebbe potuto portare anche l'Italia alla rivoluzione. In particolar modo quello che non andava giù a Duco Foscolo era l'oligarchia veneziana, quei salotti oligarchici che in qualche maniera rappresentavano il potere in città tradendo invece i bisogni di un popolo che necessitava di quella libertà che a Venezia mancava e Napoleone rappresenterà in questo personaggio di cui lo stesso Foscolo aveva bisogno. In Napoleone lui trova proprio colui che in qualche modo può incarnare questi stessi valori tanto che lo stesso Foscolo si arruolerà nell'esercito di Napoleone per combattere l'oligarchia veneta e proprio per questo si sente fortemente tradito quando con il trattato di Campoformio sarà lo stesso Napoleone a cedere sia il Veneto che la stessa Venezia agli austriaci. Quegli ideali per i quali lui aveva combattuto, per i quali si era volato anche nell'esercito napoleonico vengono così traditi e questo viene vissuto da Foscolo come un grande tradimento del quale parlerà in alcune delle sue opere più importanti tra cui per esempio le ultime lettere di Jacopo Ortis un romanzo epistolare che rappresenta la vita e autobiografico sicuramente di questo giovane inquieto Jacopo che da una parte vive l'entusiasmo rivoluzionario di chi vuole trasformare la propria terra e contemporaneamente appunto le delusioni di una storia dei grandi che non dà al popolo quanto il popolo stesso richiedeva, cioè la libertà. Questo sarà sicuramente uno dei temi appunto più importanti. L'altro tema forte nella produzione di Foscolo è quello della morte. Il tema della poesia sepolcrale si sviluppa durante questo periodo in maniera significativa e il tema della morte viene trattato in una delle opere più importanti di Foscolo che è appunto I Sepolcri, un poema monumentale quasi corposo, significativo nel quale sostanzialmente verrà data alla poesia la funzione di rendere eterni i grandi uomini della storia. Altro tema fondamentale delle opere di Foscolo è quello dell'esilio. Egli stesso è costretto a lasciare l'Italia non perché è esiliato da qualcuno ma proprio perché lui stesso vuole vivere in una terra diversa da quella italiana occupata dagli austriaci.